Plants vs Zombies Il gioco è già disponibile anche per computer fissi ed iPhone ed è una rivisitazione del classico Tower Defense Game che prevede un'orda di nemici ed alcuni strumenti, chiamiamoli così, per contrastarli. In questo caso i nemici sono degli zombie che vogliono assaltare la vostra casa e gli strumenti di difesa saranno le piante. Come potete vedere dal video l'energia è rappresentata dal sole, più ne abbiamo e più possiamo piazzare nuove piante per difenderci. Le piante saranno di vario tipo, in questo video possiamo vederne tre. C'è il girasole che raccoglie l'energia aggiuntiva, la pianta che spara i semi verso gli zombie per sconfiggerli e l'ultima che esploderà danneggiando tutti i nemici vicini. Lo schema di gioco e la sequenza degli eventi è più o meno sempre la stessa. Si combatte contro pochi zombie fino ad arrivare all'ondata finale, caratterizzata da un boss più o meno forte ed una quantità più alta di zombie. Andando più avanti con il gioco, sbloccheremo tante altre piante ma anche nuovi nemici. Se nelle prime fasi il gioco sembra fin troppo facile, presto ci ritroveremo ad affrontare orde di zombie molto più scaltri e letali di quelli presenti all'inizio. Una volta terminata la missione, veremo premiati con una carta. Questa carta rappresenta una nuova pianta che potremo utilizzare poi nelle prossime missioni. Un gioco molto divertente che non potrà mancare quindi sul vostro iPad. Grazie.